Visto che la maggior parte dei commenti e delle risposte al sondaggio ha espresso un voto abbastanza chiaro, oggi è il turno di un nuovo Best Tech Under, 100€. E dato che nel primo video ha funzionato abbastanza bene, fatemi sapere fin da subito anche qui quale cifra dovrò rispettare, a cui dovrò attenermi, diciamo, nel prossimo episodio di questa piccola serie sui migliori prodotti tech per fascia di prezzo. Il primissimo prodotto di cui vi parlo oggi è forse anche uno dei più curiosi, come in molti sapranno, e alcuni ve l'hanno anche chiesto nel video scorso, una delle periferiche più apprezzate del mondo Mac è il Magic Trackpad, dispositivo che non è pienamente compatibile con Windows, o meglio, la compatibilità si può raggiungere, ma non in maniera esattamente plug and play, ok? In questo caso Bridge ci viene incontro con il suo V-Touch, un touchpad ovviamente di precisione, commercializzato lo scorso anno e davvero ben realizzato, compatibile con le gesture, ovviamente di Windows, con una buona capacità di batteria e una connessione cablata o wireless tramite Bluetooth 4.2. Stando al tracking di Kipa sembrerebbe che, un po' come tanti altri prodotti durante questi ultimi due anni, sia andato e continui ad andare letteralmente a ruba, almeno su Amazon. E devo ammettere che il suo prezzo per il mercato europeo sfora leggermente il budget in posto, siamo sui 109€ all'incirca. C'è però da dire che durante questo suo primo anno di vita ha visto più volte un periodo in cui il prezzo è sceso al di sotto dei 100€, anche al di sotto dei 90€ in alcuni casi, quindi se siete interessati potreste tenerlo d'occhio con qualunque servizio in stile Camel 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 o Kipa, che preferiate utilizzare. Preferite qualcosa invece di più classico? Glorious ha da qualche tempo aggiornato anche il suo modello da gaming, il Model D, con appunto una versione wireless, al momento disponibile solo sul sito e su Draco, in generale qui in questo momento. Ovviamente se siete più per un approccio senza cavi, altrimenti potete trovare anche tutte le varianti sia di Model D sia di Model O cablati sempre su Amazon. Anche qui ovviamente stiamo sempre entro i 100€ e vi lascio in descrizione tutti i riferimenti vari ai prodotti di cui parlo all'interno del video, compresi questi due modelli di mouse. Che dire in questo caso di questi due mouse se non li conosceste, il che la vedo abbastanza dura, si tratta di modelli studiati per i videogiocatori leggeri, e dico davvero leggeri, con una batteria di tutto rispetto, così come il sensore BAMF proprietario montato a bordo, oltre a una connettività lag free per come la descrivono loro. Ovviamente il lag è impossibile da eliminare, ma lo sappiamo benissimo. Questo facendo riferimento ovviamente alle versioni wireless. In generale si parla di prodotti davvero ben realizzati che negli anni scorsi hanno raggiunto un certo livello di notorietà anche per l'apprezzamento da parte della community. Sono modelli un po' particolari, ovviamente dedicati ai videogiocatori, che però negli anni hanno raggiunto un certo livello di notorietà anche grazie all'apprezzamento della community. Quindi fate un salto sulle pagine dedicate qua sotto, se vi interessano fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e che cosa eventualmente, per che cosa otterreste a livello di mouse al posto di questi. Ora però torniamo un po' indietro nel tempo e parliamo di NeoGeo. E chi conosce il brand avrà già capito dove voglio arrivare. A 85 euro circa potete recuperare su Amazon il NeoGeo Mini, una mini console per retro gaming con 40 giochi al suo interno tra cui poter scegliere e rigiocare. Ovviamente è un prodotto dedicato ai più nostalgici e affezionati ai bei tempi andati che di tanto in tanto avrebbero piacere a rigiocarsi qualche vecchia gloria del calibro ad esempio di The King of Fighters, Metal Slug o Samurai Showdown ad esempio. Il tutto nella classica configurazione con tastoni e manopola da cabinato, ovviamente in miniatura. E chiudo con un'accoppiata di consigli, due prodotti diversi simili sotto alcuni aspetti ma molto molto diversi nella forma e nelle possibilità anche di utilizzo volendo. Parlo del Corsair IQ Nexus, che è una sorta di comando touch di supporto ai classici metodi di input come mouse e tastiera e che ci permette di gestire tantissime funzioni quando collegato a un PC. A tutti gli effetti si tratta di un display touch da 5 pollici con un rapporto di forma molto allungato che richiama molto lo stile touch bar di Apple per intenderci. Totalmente personalizzabile sia a livello di tasti che possiamo letteralmente svilupparci all'interno e macro da poter utilizzare così come per il monitoraggio di alcune impostazioni del PC da poter impostare sullo schermo come le temperature di alcune componenti o il loro carico attuale, per esempio processore, scheda video, RAM. Lo potete posizionare tranquillamente dietro la tastiera o dietro il mouse se siete più comodi per utilizzarlo un po' come supporto per qualsiasi attività vogliate. Mentre il secondo, di cui voglio parlarvi, è già un po' più specifico come tipo di prodotto. Si tratta sempre di un input di supporto ma questa volta più dedicato al mondo dello streaming, diciamo, e parlo di Steam Deck Mini. Il celebre tastierino per il controllo dei contenuti in diretta in un formato un po' più piccolo da sei tasti personalizzabili. Anche in questo caso non sono configurabili solamente azioni legate alle live o ad OBS ma tutta una serie di macro compatibili come ad esempio il lancio di un'applicazione con un semplice tocco, delle macro impostate per selezionare più tasti in un colpo solo direttamente dallo Steam Deck o ancora per controllare, gestire, accendere e spegnere le luci di scena quindi se sempre legato allo streaming avete installate sulla scrivania due keylight potete collegarle e, diciamo, sincronizzarle tramite la rete, ovviamente, wireless per accenderle direttamente dallo Steam Deck. Insomma, due metodi simpatici, un po' curiosi, per avere un maggiore e soprattutto molto più personalizzato controllo sul vostro PC, rispettivamente a 99,85 euro. Ora, come sempre, però, la palla passa a voi. Cosa avreste messo in questa fascia di prezzo? Ve l'ho già chiesto anche nello scorso video. Avete altri consigli per chi sta guardando il video sempre rispettando questo budget? Fateceli sapere tutti qua sotto nei commenti e non dimenticate anche di commentare con la cifra che vorreste nel prossimo Best Deck Under. Tutti, tutti, tutti i prodotti di cui vi ho parlato nel video li trovate, come sempre, qua sotto in descrizione e noi, come al solito, ci vediamo nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao! Ciao!